Non poteva mancare qualche segnalazione che ci è stata appuntualmente rappresentata anche durante la scorsa settimana sui posteggi, malcostume del posteggio. In questo caso è stata via Milano quella attenzionata come strada utilizzata come parcheggio in maniera assolutamente non adeguata. Via Milano Alta particolarmente non so mai se vantarmi o se dispiacermi di questa cosa. Solo in quel tratto lì quasi una multa al giorno per tutto l'anno scorso per posteggiatori non esattamente adeguati. L'anno scorso 2018 via Milano Alta una multa al giorno. Quasi una multa al giorno, 260 multe. Questo cosa vuol dire? Che la gente ha bisogno di fermarsi. Questa è un'istanza che peraltro i negozianti hanno più volte rappresentato, devo dire la verità. Hanno bisogno di poter far fermare le persone per fare lavorare le attività del negozio. Io spero che quando mai arrivasse questo tanto atteso posteggio nella Ticosa, anche quest'area, trovi finalmente il suo equilibrio. Però diciamo come sindaco non posso far finta di non vedere quelli che posteggiano abusivamente. Tra l'altro in qualche caso ci sono state anche segnalazioni un po' antipatiche. Per favore, sui posteggi dei disabili non mettiamo niente che non sia autorizzato.